Salute femminile e cannabis terapeutica, sono questi gli aspetti su cui si focalizza principalmente Rescue Up, la nuova scommessa di Pico e Group, lanciata ufficialmente in occasione del 98esimo congresso nazionale della Società Italiana di Ginecologia Ostetricia al Mico di Milano dal 14 al 16 dicembre 2023. Rescue Up è un'iniziativa per andare a colmare un vuoto che riguarda la possibilità di fare degli studi clinici di tipo, nella fase veramente iniziale della ricerca, a dei costi sostenibili, per cui si occupa di studi di fase 1, massimo fase 2A, con perciò dei budget accessibili sia a delle start-up che a degli organismi universitari, con però la stessa qualità dal punto di vista delle good clinical practice, degli studi di grande nome e di grandi dimensioni. Il nostro obiettivo è perciò in particolare focalizzato nel mondo degli studi relativi al femtech e diciamo siamo particolarmente interessati agli studi nel mondo della cannabis. C'è stata una crescita esplosiva, si prevede un valore di mercato di 11 miliardi per quest'anno che potrebbero diventare 15 nel 2025. Qual è il problema? Il problema è che c'è stata una crescita esplosiva di produzione però di fuori del mercato ricreazionale che evidentemente è limitato solo a pochi paesi, tra i quali la maggioranza degli Stati negli Stati Uniti, questa produzione in realtà in paesi per esempio come l'Europa ha pochi sbocchi, perché la cannabis medica è ancora in una fase molto molto embrionale, sia dal punto di vista della conoscenza dei medici, sia dal punto di vista della ricerca per arrivare a avere dei prodotti effettivamente, dei farmaci a base di cannabis. Cosa vuol dire femtech? Female technology, tecnologie che sono collegate alla salute della donna. female technology, che possono essere di tutto, devices, digital, medical devices, applications. Cannabis è uno dei nuovissimi prodotti che esistono adesso, perché la cannabis noi entriamo con i clinical trials. È la prima volta che abbiamo fatto una ricerca di base in vitro e poi in vivo dei vari prodotti del cannabinoid. Ci sono più di 140 diversi cannabinoidi. tutti parlano solo sulla SUBID e la THC. Non è così. Ci sono 140 cannabinoidi e noi in nostro laboratorio abbiamo fatto una ricerca di base. Abbiamo trovato tre diversi cannabinoidi che pensiamo che loro avranno il migliore effetto sull'endometriosi. L'endometriosi è una malattia devastante della donna che fino adesso non c'è cura. Ci sono effetti ormonali, farmaci ormonali, c'è la chirurgia. Ci sono diversi. Ma niente adesso con un specific action sull'endometriosi. Sicuramente mi sembra un'iniziativa importante soprattutto portarla alla conoscenza dei ginecologi che mediamente non avevano particolari informazioni al riguardo. Sia sulla valutazione diciamo di una presa in carico globale del benessere della salute della donna, sia per l'utilizzo, se si è parlato nel dettaglio dell'uso medico della cannabis, sicuramente una tematica non particolarmente conosciuta dai ginecologi. Allora aprirsi a nuove possibilità terapeutiche e vedere le reali possibilità di determinate sostanze che invece sono state viste sempre in maniera un attimino demonizzata su determinate altre problematiche che sicuramente è stato fondamentale. Grazie. Grazie.